Tre ragazzi sono una novità assoluta, sono tre ragazzi che vengono da Siracusa. Fratello, sto studiando la lingua, ho conosciuto una straniera. L'inglese? Sì, sì, di Parigi, fratello. A Parigi parlano un inglese molto particolare. Sparcano, fratello. Eravamo lì alle Piawe, l'ho puntata, sguardo innamorato. Com'è? Presa! No, no, mi prendeva qua, vabbè. A ginocchio. A ginocchio, vabbè. Come si dice ginocchio in inglese? Ginocchio. Ginocchio. Oh, oh, poi l'ho subito portato in un posto super romantico, spettacolo, vabbè. Tipo? Footlooker. Footlooker, sai che romanticismo, da Footlooker. Sparca, vabbè. Sai quei negozi di scappi che appena entri c'è sempre la musica che spacca. Sì, riconosco. Ho capito, sì, quelli in franchising. Tutti guardi, c'è la musica. Ho capito, sono quei locali che... Sono quelli in franchising. Ho capito, sono... Ho capito! In franchising! No, in Italia, fratello, a Milano! È fuori, Stefano! È proprio fuori! Adesso per un paio di scappi devo andare fino in franchising! Ti piaccimo, fratello, ti piaccimo! Ma non era ti stimo? Ti stimo quando te lo metti, se no ti piaccimo! Da Footlooker ho fatto il disastro, guardavo! Immagino! E lì c'erano tutte le tippe che mi guardavano. A un certo punto arriva la PR delle scarpe. La PR delle scarpe? Cioè in ogni locale? Quella che guarda gli inviti? Sì, sì, ci sono. Allora, arriva lì e mi fa, le scarpe te le porto, ma prima devi darmi il tuo numero. Certo. 2, 3, 5, 6, 5, 1, 4... Ma immagina, no, lì il numero di scarpe avrà chiesto! E' due, fratello, quanto andiamo a comprare scarpe? Ma sto fare fuori, fratello, fratello! Ma mi piaccimo da solo? No, se ti piaci da solo ti stimo, fratello, venga! E' un grande! Va bene, andiamo avanti, dai! Da Lì alla Footlooker ho comprato un paio di scarpe per correre che spaccano, fratello! Da Jogging? No! Da Footlooker, oh! E' fuori sto qua proprio! E' pure di cocco, fratello! E poi di sera ho preso la tipa di Parigi e l'ho portato in un ristorantino spettacolo, fratello! Come? Spettacolo, fratello! C'è netta la cucina a fumo di candela, fratello! Stavo a fumo di Londra! Non a fumo di candela, fratello! E poi allora a un certo punto... Beh, giusto però, eh! La classe non è acqua, signori si nasce e lui personalmente lo nacque! Come diceva, eh? Eh? Totò! Chi è? Io dico, Totò! Avanti! Forse! Totò e Peppino! Totò e Peppino! Va bene, andiamo avanti, andiamo avanti! Eh! Totò e Peppino! Buona! Oh! Comunque, fratello, a fine della salata, fratello, eravamo lì al dolce, ho giocato il mio asso nella scalpa, fratello! E la manica! Ma se non ce n'ho le maniche, fratello! Ma dove guardi? Tibiosimo di brutto stasera, fratello! A un certo punto, prendo la tipa di Parigi, la guardo e gli tiro fuori un regalino e gli faccio... Fratella! Guarda che cosa ti ho portato! Una perla! Di più! Due perle! L'ultimo videogioco di FIFA 2010! Vi faccio... Ti piace? Dai! Ui! Ma che ui è per la Playstation, va dai! E siamo! 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 Johnny Groove! Grazie! Giovanni Legna! Terzo anello! Secondo anello! Primo anello! Grazie!